Carissimi amici e amiche, sto andando dai carabinieri per quello che sapete. Dunque, sabato pomeriggio, sono le 4 di sabato pomeriggio, mi hanno detto che per questi motivi, per furti di identità e cose del genere, ci si può rivolgere anche ai carabinieri. Io mi ero già rivolta ai carabinieri, solo che andai a Reggio Emilia per un'altra faccenda, per un'altra faccenda che riguardava un atto di bullismo nei miei confronti, che era stato effettuato al di fuori dal web. Dunque, quindi, ora vado, non avrei mai pensato di sabato pomeriggio di dover andare dai carabinieri, spero di trovare qualcuno, insomma, che possa aiutarmi, perché è sabato pomeriggio, perché la polizia postale a Reggio Emilia è aperta solo il giovedì mattina. Lunedì mattina lavoro, non ci posso andare, lunedì pomeriggio sarò stanca del lavoro che avrò fatto, quindi non ce la faccio, non ce la farò. Ecco, quindi io vado adesso ai carabinieri del mio paese e poi, se vedo che non è possibile risolvere con loro, speriamo però sia possibile, e allora, o se mi dicono che devo tornare, al limite poi tornerò lunedì pomeriggio o martedì mattina. E infine mi resta come ultima analisi la polizia postale di Reggio Emilia, con la quale mi sono già messa in contatto, però mi hanno detto che non c'è bisogno di appuntamento, però c'è una bella fila da fare, dalle 8 e mezza alle 12 e mezza, pensate un po'. Va bene, e questo succede, lo so, a stare sui social, ma quello che mi fa rabbia è che già so chi è, quindi è uno stalker, sì, mi fa pena perché è fuori di testa, è malato di mente, è tossico, eccetera, però quindi non è una persona con le piene facoltà, ecco, quindi quando questi atti li fanno persone che non sono pienamente consapevoli di quello che fanno, insomma non c'è da prendersela più di tanto, ecco. E niente, comunque io voglio procedere perché io voi sapete che sono appunto una divulgatrice e scrittrice, tra l'altro c'è già pronto il mio quinto libro, ma sto aspettando a farlo uscire perché in questo periodo veramente non mi va di farlo uscire, e niente, quindi c'è gente che passa, quindi adesso mi metto in macchina, mi metto in macchina e vado dai carabinieri. Eccomi arrivata. Allora, carissimi amici e amiche, sto cercando un angolino tranquillo per dirvi com'è andata. Allora, la situazione ancora non si è risolta, sono stata dai carabinieri che sono stati gentilissimi e ho dato la carta d'identità e dopo aver aspettato un po', mi hanno detto questo, che se si fosse trattato soltanto di un reato di stalking, allora potevano provvedere loro. Però, visto che si tratta di oscurare, mi hanno detto due pagine, si tratta di oscurare due pagine, a quel punto lì ci vuole la polizia postale. E la polizia postale, a Reggio Emilia come sapete, riceve un solo giorno il giovedì e mi hanno anche detto che in era Covid, come adesso, devo prendere l'appuntamento. Devo prendere l'appuntamento perché c'è tanta gente naturalmente che ha bisogno. Devo prendere l'appuntamento e mi dicono loro poi quando andare, sempre di giovedì. Quindi la situazione ancora non si sblocca. Però sono stati molto comprensivi perché io sono stata lì, ho raccontato tutto disperatamente così e sono stati veramente molto gentili, carini e comprensivi. Mi hanno detto che la polizia postale però una volta che io, una volta che vado lì, cioè lo fanno poi immediatamente, insomma, perché loro hanno tutti gli strumenti per oscurare immediatamente le due pagine. Poi è chiaro che chi ha fatto questo dovrà, non la passerà liscia chiaramente perché non è una cosa che tutti possono fare, cioè non lo può fare nessuno una cosa del genere. Quindi, niente, quindi devo aspettare. Dunque, quindi io telefono, telefono oggi, sabato pomeriggio, ormai sono già le 5, non so se riuscirò a telefonare. Vabbè, telefono lunedì mattina e spero che giovedì possano, su appuntamento, possano ascoltarmi, ecco, perché poi li fanno presto. Ecco, quindi spero. Spero in questo. Vedete il paesaggio com'è bello. E niente, sto facendo una giratina per il mio paese, un po' di vetrine e vi ringrazio tutti, vi ringrazio tutti per seguire questa vicenda che speriamo abbia fine al più presto. Guardate, io dopo due notti e due giorni che non dormivo, alla fine stamattina mi sono addormentata, mi sono svegliata che era luna. La prima cosa che faccio, o che faccio ogni tanto, ma la devo smettere, è guardare se quelle due pagine ci sono ancora. Mi era sembrato che una non ci fosse più e invece no, ci sono sempre ancora tutte e due, e naturalmente ce l'ho qui. Quindi i carabinieri mi hanno capito e ancora una volta mi hanno dato sostegno, anche morale, ecco, quindi, che è molto importante secondo me, ecco. Quindi si tratta di aspettare, va bene? Quindi sono contenta del servizio che mi hanno dato. Adesso conoscerò la polizia postale. A presto amici, ciao e grazie di tutto, grazie della comprensione e dell'affetto con cui mi seguite, pienamente ricambiato. Grazie.